Il promontorio anticiclonico presente sulla Spagna si sta unendo con l'anticiclone russo e questo manterrà tempo stabile sul nord Italia e anche sulla nostra regione, dove continuano a fluire nei bassi strati correnti nord orientali. Per domani prevediamo cielo sereno su tutta la regione, con forza la possibilità di un po' di nubi basse o qualche nebbia in qualche fondo valle alpino e prealpino solo nel primissime ore del mattino in rapida dissoluzione. Sulla costa soffrirà a bora moderata il leggero calo nel pomeriggio, temperature massime ancora sopra la media attorno ai 24-25 gradi sulla costa, attorno ai 26 localmente 27 in pianura. Per domenica prevediamo cielo sereno su tutta la regione, al mattino soffrirà ancora un po' di burino in calo nel corso della mattinata e poi in brezza nel pomeriggio, temperature massime attorno ai 23 gradi sulla costa, attorno ai 26 in pianura. Lunedì e martedì ancora bel tempo, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e temperatura ancora decisamente sopra la media. Dall'Osservatorio Metrologico dell'ARPA, Livio Stefanotto.